Siamo a Bollate con Luca Novello presso il Fight Club Novello ovviamente una palestra centrata sugli sport da combattimento dove tu ti alleni tutti i giorni in pratica Luca, allora come stanno andando i più allenamenti? Ho ricominciato da qualche settimana comunque adesso sto a prendere il ritmo di solito la luce due volte al giorno i allenamenti sono molto intensi perché ho degli obiettivi e voglio rimarinare Adesso tu ti alleni qua questo centro che però è una palestra anche aperta per chi vuole praticare e iniziare gli sport da combattimento i corsi stanno andando bene perché tanta gente sta venendo a iscriversi la palestra è nuova qui a Bollate questa esperienza in cui non solo ti alleni ma gestisci anche un centro di sport da combattimento come ti trovi? Molto bene io mi sento mio oggi qua dentro perché so che è casa mia i ragazzi sono felici di andarsi con me perché siamo professionisti io mi dico molto a loro e noto che comunque ci sono soddisfazioni molti ragazzi stanno migliorando fanno combattimenti abbiamo riempito già molti corsi e alcuni sono ancora vuoti però più 18 che adesso avremmo risultati Senti, quest'anno dal punto di vista agonista è andata molto bene ci sono stati eventi molto importanti come il glory ma anche la notte dei campioni com'è stato il match della notte dei campioni? Ho affrontato un avversario molto forte uno dei più fatti qua in Italia ad Rami 2 ho fatto un bel match mi sentivo forte mi sono allenato bene è stato un match combattuto dove non ho fatto vedere tutto quello che sono capace di fare ma nelle prossime volte e nei prossimi match però più meglio Beh, comunque sicuramente c'è ancora tanta strada da fare ovviamente ci va tanto allenamento e tanta preparazione sia fisica che mentale, no? Sì Allora, senti quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno? Diciamo quali sono i tuoi obiettivi proprio come fighter per la tua carriera? Eh, gli obiettivi quest'anno sono combattere in eventi di livello magari anche all'estero combattere per qualche cintura importante e comunque far vedere quello che sono capace di fare dimostrerà tutto quanto valgo Bene, allora in bocca al lupo sicuramente a breve ci saranno le news sul tuo prossimo match e torneremo qui per vedere una fase dell'allenamento Comunque invitiamo tutti a venire presso il tuo centro qui a Bollate in Via Lombardia Via Lombardia dove ovviamente può venire a provare una lezione ad allenarsi e vedere come aprirsi agli sport da combattimento A Bollate, Via Lombardia 18, che aspettiamo? Allora, un in bocca al lupo e aspettiamo tutti qua presso il Fight Club Novello Grazie a Luca Novello Ciao Grazie, ciao